Voi siete amici da quando a Melbourne avete partecipato al congresso sul clima, quindi da anni. Sì, siamo diventati amici immediatamente. Era come se ci conoscessimo da una vita, vero? Sì. Alex ha opinioni molto solide, ma si perde nei luoghi comuni. Come descriverei Harry in tre parole. Bianco, biondo e inglese. Ciò che io ammiro moltissimo di Alex è la sua capacità di ammettere quando ha torto. Lo considero un grande pregio. Enorme. Beh, uno scrittore. Vivrei a Parigi. Avrei più appuntamenti. Certo, è difficilissimo averne uno quando sei un principe. Frequento persone che mi interessano poco e le persone che vorrei frequentare non posso vederle. Ecco i dati. Harry per te rappresenta un'ossessione da anni. Non è vero. Non interrompermi. E voi due avete flirtato via messaggio ogni giorno per mesi. Tu hai passato l'intera serata del party di Capodanno a ignorare donne giovani e sexy solo per parlare con Harry. E lui ti ha dato un bacio e ti è piaciuto. Quindi, riassumendo, cosa significa per te? Non lo so. Dobbiamo solo evitare coinvolgimenti, ecco. Harry appartiene alla Gran Bretagna. Harry Fox deve appartenere a se stesso, altrimenti... svanirà. Non sarà mai di nessun altro. solo temporaneamente. E camminare per Austin tenendoci la mano senza preoccuparci degli altri. Voglio portarti nei posti in cui sono cresciuto. Capirai meglio com'è stata la mia vita. Non mi sono mai sentito come adesso. È come se avessi una corda legata al petto che continua a tirarmi verso di te. È molto piacevole. Perché io non voglio rinunciare nemmeno alla più esile speranza di aggrapparmi alla felicità che ho trovato con te. Se non ci credi, sei tu a non conoscermi. Perciò mandami via, Harry. e prometto che una volta uscito da quella porta non ti disturberò ancora. Quando ero più giovane, io pensavo che avrei portato qui la persona che amavo. L'avrebbe amato quanto me. Proprio qui, insieme, in mezzo a queste statue. Voglio lasciarti qualcosa di mio. Finché non mi avrai tutto per te. Le e-mail che il Mirror chiama le lettere di Waterloo rivelano l'intimo rapporto tra il principe Harry e Alex Clermont-Dias, il figlio della presidente americana Ellen Clermont. Sappiamo perfettamente cosa significhi essere dei personaggi pubblici, ma non potevamo immaginare che le nostre confessioni, le paure e i pensieri sarebbero finiti in pasto all'opinione pubblica. Non sarà più la vergogna a definirmi né i segreti. Da oggi in poi il mondo mi conoscerà per ciò che sono. Io ti amo. E io di più. Di questo ne discuteremo.